Vaccini obbligatori anche in Francia, anzi oltre alpe adesso sono 11 le iniezioni per l'ingresso negli asili e a scuola. La riforma è già stata votata dal Parlamento ed è entrata in vigore il 1 gennaio. È stata illustrata dalla ministra della salute francese Agnès Boussin. Ho deciso di estendere l'obbligo vaccinale passando dai tre vaccini obbligatori, polio, difterite e tetano, a un totale di 11. Tra i vaccini obbligatori, gli stessi validi in Italia, anche per tosse, morbillo, parotite, rosolia e epatite B. I controlli inizieranno dal prossimo giugno per lasciare il tempo alle famiglie di provvedere alle vaccinazioni. Non sono però previste ammende o sanzioni. L'obiettivo, spiega la ministra, è aumentare la fiducia, informare. Per questo abbiamo rinunciato alle sanzioni. Vogliamo rassicurare, non punire. Ma è chiaro che i bambini non vaccinati non entreranno né all'asilo né a scuola. È una tutela che abbiamo l'obbligo di fornire a tutti i bambini, in particolare a quelli che non possono essere vaccinati, quelli malati, quelli immunodepressi. Come in Italia, la riforma ha sollevato molti dibattiti, contestata da chi non ha fiducia nei vaccini. Nel nostro paese, dal giugno 2017, sono obbligatori dieci vaccini. Altri quattro sono fortemente raccomandati. Con la Francia, le vaccinazioni diventano obbligatorie in 15 paesi dell'Unione. Regno Unito e Austria hanno introdotto l'obbligo di un certificato per l'iscrizione a scuola. La Germania ha pure fissato una sanzione di 2.500 euro.